L'11 febbraio 1979 è il giorno della vittoria della rivoluzione. L'esercito in questa data si dichiara neutrale e quindi finiscono le ostilità tra la parte delle forze armate rimasta fedele allo Shah e quelle che invece si sono schierate con i rivoluzionari, che negli ultimissimi giorni a Teheran hanno dato luogo a scontri molto cruenti. È la vittoria della rivoluzione ma non è la fine della rivoluzione, anzi da questo momento si entra in una fase più caotica e anche più violenta, violenza contro ovviamente tutto quello che è rimasto del vecchio stato dello Shah, quindi tribunali rivoluzionari e processi sommari nei confronti dei vecchi ministri e anche di molti rappresentanti delle forze armate dello Shah e poi comincia una competizione molto dura e come vedremo anche molto violenta tra le varie componenti della rivoluzione. Khomeini a Parigi ha istituito un comitato rivoluzionario, un consiglio rivoluzionario che di fatto governa il paese ed è però un organo non eletto ed è espressione in buona sostanza di una parte sola dalle varie componenti rivoluzionarie. Il governo Basargan ovviamente è in carica, Bakhtiar che era il primo ministro nominato dallo Shah, probabilmente grazie a un accordo con lo stesso Basargan riesce a fuggire dal paese e si entra in una fase che poi porterà a fine marzo al referendum istituzionale in cui verrà scelta la Repubblica Islamica come forma di Stato per l'Iran. Comincia da subito l'opera di governo di Khomeini che di fatto imprime subito una svolta per l'islamizzazione dello Stato e come vedremo nelle prossime puntate ci saranno una serie di provvedimenti che daranno subito un segnale molto forte di quello che poi sarà la Repubblica Islamica dell'Iran.